Ora, questo granchetto che è del Martirreno è stato pescato insieme a un certo quantitativo di telline. Abbiamo mangiato le telline, il granchetto si è salvato, l'abbiamo tenuto una settimana nella sua acqua di mare e oggi lo stiamo liberando, facciamo un rilascio di granchetto sempre del Martirreno a Ostia. Ho scoperto, mentre lo stavo portando, che è una femmina e ha le uova. E questo è un fatto straordinario, qui c'è stato l'intervento dello spirito, sai? E' bene, non lo vedi che ti fai. Sei in terrazzo, guarda. Noi, non lo vedi.